cominciamo panasce te tradi vasmitie stranizu pagina 67 stranizu sceste se assieme pagina 67 di esteri sunchi ok guardate i disegni guardate i disegni e dite che cosa hanno fatto e scasite che stava secondo voi Paolo e Angela in vacanza Paolo e Angela vopusche paolo è andato in montagna Paolo è andato in goro Angela è andato al mare Angela è andato al mare marina andato al mare andato al mare andato al mare è stato fatto che hanno... ...e hanno lezze in il via e hanno lezze in la terra. Bene. Allora... ...e... ...Marina... ...e... ...e... ...po zonumiamo raggiungo... ...mo che è stata razzata... ...e? ...e... ...e... ...è? ...e... ...e... a prendere il percorso il percorso. Non è vero? Prezo? Prezo? Prezo in sole. Perchè? 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 No, ma non so, è vero che la spazava. Non so, è vero che la spazava o non spazava, ma si si è spazava. Voleva? 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 Ha mangiato... S'articule? Un pesce? No, 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 sapete dire un articolo? Il pesce... V'ristoran... Il pesce al ristorante. Bene, ha mangiato il pesce al ristorante. Bene, i catalans... Non ha parso nei lottchi. Bene, pomniti? Anadiela la croc na parusne lotche. E ha fatto un giro, un giro, un giro in... In barca a vela. E ha fatto un giro in barca a vela. Bene, bene. O Giuliani n'està già assicurati. O Paolo. Andino a parisi. E' spostevo un giro in barca a vela. E' spostevo un giro in barca? Non, non. E' spostevo un giro in barca a vela. E' spostevo un' giro in barca. Potom, noi vediamo, che si è ricordato, che si è ricordato, e che si è ricordato nel funicoliore. Bene. Allora. Paolo. È iniziare a fare un'auto. Vediamo come si chiama il auto. In italiano. Ti lo sai, Giuliano non lo sai. Non lo sai, non lo sai. Quindi scrivo. Becicletta. bene, on, on jest, Juliana, on jest. Rory am. Ahe. Itti, chadid, ye, chadid, a die in la goro. abaitis bis n'evo n'erzia Cacai a pierdo il buco a Favita 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 Andare è un buco a lungo Cacai a pierdo il buco a lungo Il buco è stato in un buco E' stato E' stato E' stato E' stato Cacai a pari Il buco Il buco Il buco Il buco Il buco Nasi poissimi, in avanti, in autobus e in velocità. No. Oh, per te. Questa è la stranica di 57. Non è un'eccita, non è un'eccita. La stranica di 57. Ah, è... La stranica di 57. Questa è la tablica di non bisogna. «Золотая страничка 57» «По учебнику», «В ней есть прелоги средства транспорта». «В ней есть прелоги средства транспорта». «О, господи. Он ездил на велосипеде». «Какой предлог для средства транспорта?» «На-на-на-на-на». «Там, где средства транспорта?» «Таблица с глагоном «Партиры». «Партиры». «Партиры там и прелоги средства транспорта». «В» «Вот». «Составляй целиком приложение. Он ездил на велосипеде». è andato in bicicletta è andato in bicicletta E' un gringo! E' un gringo! E poi vediamo il glagol sabirat RACOIERE E' un po' il glagol Pagadi, pagadi, adesso non si finisce E' un po' il glagol Все glaglie, per cause nel infinitivo LIR V drunk Vedendo a THINK Ovouldo E' une proprime E' unувати starting Agora E' un procuramento E' un proprime E' un proprime S FOSCUMI e poi vediamo come spiegà in vero al momento uno, prima è sbettare in quale significa quello che è accortato sul 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 della terra sbettare blu per esempio sbettare to, che si trova. Sibirà ciò che si stia. Da, da, da. Egli, proprio, io uranile la rucca e si abbrano. In смысle, si trova. Come spiegare in stagliaccio? Raccolgo, cioè, guardate, in infinitivo, ci sono GL. In primo liceo di l'insterno la città e i due bucchi a meno i miei stanni lg raccolgo fatto parola raccogli raccoglie raccogliamo raccogliete e a piatt e i due bucchi a meno i miei stanni raccolgono raccoglgo raccogli raccoglie raccogliamo raccogliete raccoglgono причастие от этого gragola на самом деле вам уже известно потому что в другой золотой страничке есть список самих распространенных неправильных причастий есть подобный глагол другой но с таким же окончанием шейлере помните что значит шейлере и там указано что причастие это шелто то есть причастие от альто поэтамо шейлере шейлто ракоглире причастие будет раколто вот причастие ни права не причастие этого грагола ракоглире все глаголи оканчивающиеся в инфинитиве на ере ведут себя таким образом без вопроса на не себе ведут капризно ведут себя надо запоминать другие глаголи поэтому сейчас у нас есть еще вопрос есть тогда если я говорю они собирают ракольгоно 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 а ракольгоно это инфинитив от этого вот преоспоряжение в третьем лице множественного числа если я говорю что это он собирает то ракольгоно ракольгоно piano ракольгоно поражение анти sales доверian твои в Kogliere, značit, sarvat, značit, zastygat, lavit. Značit, 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 značit. Značit, 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 snimat, ubrat, snimat, ubirat. Značit, značit, zapisam. Značit, 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 značit. Olačit značit, značit. I neljih dar značit. Таким образом, eh? Хорошо, пока, все. Вопрос есть? Сейчас. «Коль то» получается. «Толь то». Верно, верно. А дальше? А дальше нет, никуда. Потому что я больше других глаголов не написал. «Коль то». «Коль то». «Б», составляем предложение. «Он собирал гримбин». «Сорвать, да? Куглиере». «Кольере». 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 Вот, то есть я сорвал «Коль то». «В ближайшее прошедшее время начинается с вспомогательного глагола». «Дальше ставится причастие». «Кольто» — это только причастие. «Кольто» — это только причастие. Чтобы исполнять глагол в ближайшем прошедшем времени, надо начинать с вспомогательного глагола. «Я сорвал что». «Я сорвал что». «Это и перехонник глагол. И вспомогательный глагол не будет эсэрэ. «Овере» — вспомогательное глагол. «Околто». «Я сорвал». «Аколто». «Я сорвал то и околта». «Околто» — это означает. «При спомогательного глагола вели, причастие не меняется». «Меняется то, как при спомогательного глагола вели». «Бе, он, сапирал, гриби». «Ай...» «Ай и тати». «Ан...» «Си?» «А...» «Ракколи...» «Ниет». «Причастие». «А...» 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 «Собирать...» «А...» «Ракольере» меняется на... «Если я говорю, что он, то...» «Ракольере» — это настоящее время. «Мы здесь ставим приложение в ближайшем прошедшем времени». «А...» «И причастие от этого глагола». «О, я написал...» «Стёрпа, томпа, там, что не вместо ни куатала». «Но написал при чести». «Зис написал при чести». «Зис написал при чести». «Кольто» 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 — это «дакоглире». «А ракоглире» «Добав приставку» и получится. «О!» «О!» «Гиулиан!» «Если «ракольере» «Видятит как «кольере»» «Плюс приставка «рак»» «Видишь» «Таак» «Если у глагола «коглире» при чести «так колто» «Какой будет при чести у глагола «ракоглире»»?» «Ракколто» «Вот» «Бе, он собирал» «Ракколто» «унмож herbs» «Сна我的 leichtах на ithi» «Фунhen» «И фунгих» «Вод как квигали» «せ есть можуважения» «И фунгих» «Бе» «А раколто» «И фунгих» «ВОЗО» « channel» « CHAR για!" «Пишется» Questa è l'impasto. Passi l'inno. Allora, un'az, pari sono che gli stai con il trasporto funicolare. Spagna, non da? FU, 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 Nicolai. È un'intensità di transporte, che succedono da questo. È un'intensità più semplice, come e più semplice. LA FUNE significa KANAT. È un'intensità, perché è un'intensità così. Beh, come per l'italiano si è il sredo del transporte? Prendere. On? Zial? FUNE COLOR? Prezzo? Si? I? No, 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 no. Zial? Zial? Sto? Predoni, non è un articolo. Ha preso la funicolare. Ha preso la funicolare. E' la ciò. Ciao, sì. Ok. Ok. E' questa nottica. E' questa nottica un'intensità di cui è la donna. E' questa nottica, ma qui? E' questa nottica, ma qui, è la nottica che l'audito a casa. E' questa nottica che vi faccio vedere prima. На stranice 68 Будet 5 В конце stranice 5 упражнение Completate il testo con le parole mancanti Запolnite il testo Propostanemi словami E'audiravanie Сейчас скажу Какая нужна дорожка Это дорожка 42 Сначала слушайте дорожку Сколько раз потребуется И потом Это такое Упражнение Хорошо Дальше Пажина 69 Упражнение Ты Упражнение Ты Это довольно простое упражнение Потому что нет глаголов Здесь у нас есть Я даже не называл Это приложение Есть такие наборы слов La frase difficile Определенный артикуль Существительное И прилагательное Простое Слово простите Сложное предложение La frase difficile Переводится как Сложное предложение Фраза это Фраза это То есть приложение И difficile значит Сложное Сложное здесь Надо все Ставить В множественном числе Артикуль Определенный артикуль Существительное И прилагательное Ле фрази Дифицили Сложное предложение Сложное предложение Сложное предложение Сложное предложение Низависима От рода В множественном числе Прилагательное предложение Итоганчание И Не меняется Пароду Ле Ле Ноти Зие Importанти IMPORTANTI Beh, Giuliana Il libro noioso Noioso Prilagatelne noioso Znaci skušni Skušna knjiga Knjiga skušna Skušna knjiga Eta nis prilagatelne Eta prosto nabor slav Skušna knjiga Per Kak zvucit na italiansko Skušne knjigi Počin Artikul Znaci skušna knjiga Znaci skušna knjiga Znaci skušna knjiga Libro Libro Libre Net Eta okončanje Mnожеstveneva čisla Ženskava roda Libri Eta je javljec S predilani artikul Mnожеstvene čisle I Libri I Libri Noio Noio Si Ese miždo glasnami Preznoseca zvonka No Si Noio Si Noio Si I Libri Noio Si Marina Sljeduše L'amica Gentile Prilagatelne Gentile Značit Vježljivi Zdjez Vježljivaja Padruga Le Amike Gentili Bene Le Amike Amike Capisce Znači Bene Le Amike Gentili Le Amike Gentili Znači Znači Juliane No Studiente Bravo Studiente No Pačemu Studiente Studiente Po Ruski Начinajte Z Prilagatelne Značinajte Z Prilagatelne Hroši Studiente A Tebe Nada Skazat Hroši Studiente Lo Vnoži Znači Znači V što Prevrašajte Juliane Vazmi Straničo 65 Znači Našto nečinai Znači 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 Nei stati uniti? Bene, stati uniti, na che non si chiama stati uniti? Na che non si chiama stati? Li? Non si chiama stati uniti, ma si chiama stati uniti. I articolo è li. Bene, stati e studenti, è stato un'altra cosa, è stato un'altra cosa, li? Li studenti? Sì? Bravi. Vierna. Ma la macchina veloce, non istare? No, istare, istare. Bistra è la macchina, veloce significa bistri. Le macchine veloci. Bene, le macchine veloci. è la parete bianca. Uh-huh. La parete... Eh, mi abbsugdali, e mi abbsugdali, specialità coi su sistitine, stavoj abbsugdali. Quando mi citavo il testo del quartiere anni Mi citavo che ci sono quadri molto belli alle pareti c'è molto bellissime le cartiere La parete è una stena Quale stena? La parete è una stena Bile stena Le parete è una stena Sucessivamente Le parete è una stena Sucessivamente E' una stena E' Non è una stena Ma è una stena E' una stena E' una stena E' una stena E' una stena Ciao 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 Non vedo te Ti me vedi? Si Vabbè Sama è importante che ti vedi me vedi Allora Un minuto Lena Mi troviamo per tetradi Da Na stranica 69 Dio Una stranica Dio bisogna peristruire l'applicazione in qualsiasi, e Giuliana rischia il sesto. La parete bianca, la parete bianca. E bianca capisce? Bianca. Capisce? Napiši. C'è? Perché? 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 Sì, non ti avevo l'avido! Non ti ho bisogno! Ora non ti è vero. Il momento è una prospettiva. Bianchetti. Ma devi dire che, dire. Lea? Me interessa solo la scrittura. Perché la problematica è in quanto qui. Bianchi? Bianchi 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 C'è chi ha chiamato tuo amore di un'argentina che è stato che è stato che è stato Che Guevara C'è chi ha chiamato No, è stato che è stato che dice che è stato argento Chi ha chiamato C'è chi sa combatte conversa C'è chi ha chiamato che C'è chi è Senza grazie lena tibie 7 prilagione читai il quadro antico bene stalinna cartina più di stalinna antiche antiche va bene allora perestroio i quadri antiche e capisce antiche antiche no no antiche pravso verno io chci chci che che mi per l'italiano antiche chci a ok h h marina cosa vuoi lo spettacolo divertente no 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 lo spettacolo lo spettacolo gli si gli spettacoli divertenti gli spettacoli spettacoli divertenti io io molto spettacoli spettacoli non 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 nous ci chci che spettacolo c'ero oh molto grazie l'ho vista quando sie audizione non si segn extracted il suo due contesti che Giuliano Zaino Zaino Lo zaino nuovo Eh, però vedi Zaino ne pomi, nove, nove Novi ruczacchi Ah, è tecno ruczacchi Beh, novi ruczacchi Va sto prevasci Gli Gli Zaini Gli zaini Novi Gli zaini Gli zaini nuovi Va bene Lena, devi a te No, spresti, spresti, desi a te Mmh La signora elegante Che prevasci? Legantna e signora Ah beh, niente prevasci La signora La signora Elegante Elegante Ok Beh Prevedim Prevedim Perestroim Le signore Elegante No 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 Le signore Eta pravilna Prelagatelne Ne pravilna Prelagatelne E Ok Le signore Elegante D Ok Marina le attore francese si e che è proprio francese l'attore francese l'attore all'indelon e che è francese l'attore 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 gli attori francesi gli attori francesi attori attori ok ok giuliana il cantante americano non il cantante non il cantante no americano l'attore 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 è capirci cantanti 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 americani 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 i cantanti i cantanti ok l'attore l'attore questa lezione è molto interessante l'attore 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 lezioni sono molto interessante l'attore 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 se ho come narizzo, narizzo molto, ho scritto anche un'immignazza, ho molto un'immignazza, se ho questo non è un'immignazza, queste lezioni, lezioni, la cosa è un'immignazza, e sono interessanti e interessanti. Lena, ti biai suoi. Questa storia è molto divertente. Perivadi? Questa storia è molto visolata. Non è visolata. È abbastanza. È abbastanza. Sì? Sì. A come è visolata? Allegro. Io ho pensato che è un'immignazza, è un'immignazza, è un'immignazza. La storia è molto divertente. Proste, è un'immignazza che può essere visolata per la primavera. È un'immignazza che può essere visolata. È un'immignazza. Sì, è vero. Bene. Per il storio? Queste storie... Sì? È molto divertente. la coltata il glagol nata stavano gesto nel cislato queste storie sono molto divertenti queste storie sono molto divertenti bene marina questa frase è molto facile queste frasi sono molto facili queste frasi sono molto facili poi abbiamo prilagato nel facile quindi prosti gli occhi l'occhi nel senso è proprio prosti e non svilogli l'occhi nel senso è molto divertenti bene Giuliana, trete, читiamo questa bambina è molto carina переводiamo è il ragazzo questo è il ragazzo questo ragazzo è il ragazzo questo ragazzo è molto carina Sì Carine Carine Queste bambine sono molto carine Bene Lena Questo esercizio è molto difficile No, 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 pagati, pagati Questo esercizio Esercizio Sì Questo esercizio è molto difficile Bene, per lì Questo esercizio è molto difficile Uprascizio Uprascizio Eh? Occhien? Occhien trudno Trudno e složno Bene, perestroim Questi esercizi sono molto difficili Diffici Lea, mi sembra anche No, no Difficili Difficili Questi esercizi sono molto difficili Sono 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 molto difficili Sono molto difficili, verne? Questi esercizi sono molto difficili Marina Questa aule è molto grande Per evadi? E' da cosa? E' da auditoria E' da cini? Occhien balcena Occhien balcena Queste aule Sì Sono molto grandi Bene Queste aule Sono molto grandi Bene Allora so Giuliana Pia... Sce sto e? Qu'è sti? No, non c'è la città Ah Qu'è sti? Qu'è sti? Qu'è sti? Molto bello Bene Perimodim Qu'è sti? 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 è molto bellissimo bene per i strumenti Questi orologi sono molto belli. Bene, questi orologi sono molto belli. Bene, Lena, io ti prendo il visual. Mi sarà difficile, se io faccio un video ora, allora il mio occhio sarà molto piccolo. Ah, bene, bene, bene. Lena. Bene, io sono con voi e ho molto bene. Questa strada è molto stretta. Bene, va di. Questa è una strada molto uscita. Bene, bene. Queste strade sono molto strette. Strette. Bene. Queste strade sono molto strette. E la sciò? Marina. Questo studente è molto intelligente. Bene, va di. Questo studente è molto intelligente. Sì. Sì. Questi studenti sono molto intelligenti. Bene. Questi studenti sono molto intelligenti. 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 Oh. Sì. 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 Questo studente è molto gentile. Sì. 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 Rim approvedi. Sì. 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 Ora vediamo l'istaggio. Sì. Do this a sinistro. Questo documento è molto importante. Bene, questi documenti sono molto importanti. Questo vestito è molto caro. Questo vestito è molto caro. Questa signora è molto elegante. Questa signora è una signora. Questa signora è una signora. Questa signora. Questa signora è una signora. V. Carlo dice che è tornato un'ora fa. Carlo dice che è tornato un'ora fa. Questa signora è tornata un'ora fa. Questa signora è tornata un'ora fa. E ha ricevuto una lettera importante. Bene. Marina. Carlo dice che ieri ho lavorato tutto il giorno. bene. Carlo dice che ieri ha lavorato tutto il giorno. bene. Carlo dice che ieri ha lavorato tutto il giorno. bene. Carlo dice che ha lavorato tutto il giorno. bene. Carlo dice che ieri sono tornato a casa Tartia. Carlo dice che ieri ha lavorato tutto il giorno. Si. Quando l'era dai? V. 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 V**. V. Carlo dice che. CHE GEVARRA Sì, c'è un'ispanschia. Che? Vcero a vecero... ...sono tornato a casa tardi. Carlo dice che ieri sera è tornato a casa tardi. Bene. Giuliana, mi piace molto Ghevara. A me piace molto, eh? No, quando... Stati, eh? Bene. No, mi hanno detto che siamo più vicino a 20 anni. Ok, Lena, quattro. Carlo dice che ho passato una settimana in Sicilia. Eh, per la voglia? Carlo dice che ho passato una settimana in Sicilia. Carlo dice che ho passato una settimana in Sicilia. bene. Eh, Marina? Carlo dice che sono stato a Milano la settimana scorsa. Prevodi? Carlo dice che è stato a Milano la settimana scorsa. bene. Giuliana! Carlo dice che ho avuto l'impuenza. bene. ...berevodi. Carlo dice che ho avuto l'impuenza. Bene, evolvemo! Carlo dice che ho avuto l'impuenza. Bueno, come dice che ho avuto l'impuenza? Sì. come in un momento, ho un'immagine. Ho un'immagine ha un'immagine. Ho un'immagine ha un'immagine. Carlo Vecci. Care. Care. Sì, non ho capito. Speriamo avere tre tanti di liceo di inizia. Che ha... ...e, i pricestri. Sì? Ha avuto... ...all'infianza. ...tochka.